In una caserma dei carabinieri il maresciallo si rivolge all'appuntato Appuntato! Si che c'è maresciallo? Ma è possibile mai? Oggi ascoltavo la radio e sentivo parlare sempre di barzellette sui carabinieri Ma è possibile mai che tutte queste barzellette le fanno sempre sopra di noi? Ma maresciallo purtroppo le barzellette sono nate così sui carabinieri perché è un po' diciamo, è un po' la verità Come la verità? Si maresciallo se voglio glielo posso dimostrare E me lo dimostri, mi dia le prove E si, carabinieri scelto Caputo? Si arrivo! Viene il carabinieri scelto Caputo Allora Caputo lei deve fare una cosa Deve andare a casa mia a controllare se io sono a casa Dopodiché viene qua e me lo riferisce Va bene, va bene appuntato e se ne va Ha visto maresciallo, ha visto Caputo cosa ha fatto? Io gli ho detto di andare a casa mia e controllare se io ci sono e lui ci è andato Risponde il maresciallo Ha proprio ragione Che stupido Per evitare tutto questo poteva telefonare Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah